16 cosa posso dire di parigi naturalmente tutto è stato soltanto delirio e follia il mio soggiorno a parigi è durato solo poco più di tre settimane e in questo breve periodo abbiamo dato completamente fondo ai miei 100.000 franchi parlo soltanto di 100.000 già che gli altri 100.000 li ho consegnati direttamente a mademoiselle blanche 50.000 gliele ho dati a francoforte e tre giorni dopo a parigi le ho consegnato una cambiale per altri 50.000 cambiale che del resto lei è venuta da me a farsi pagare in contanti una settimana dopo aggiungendo e le 100.000 francs qui ne rostano tu le mangerai lei mi chiamava sempre il suo precettore è difficile immaginarsi che possa esistere al mondo un essere più avido avaro e calcolatore del tipo di persone a cui appartiene mademoiselle blanche ma questo naturalmente solo con i suoi soldi per quello che riguarda invece i miei 100.000 franchi blanche in seguito mi ha detto francamente che le erano serviti per la sua iniziale sistemazione a parigi ormai così mi sono messa definitivamente e una volta per tutte su un piano di dignità e di rispettabilità e questo nessuno me lo toglierà per un pezzo o almeno ho fatto il possibile ha aggiunto del resto io non ho mai visto nemmeno questi 100.000 franchi già che i denari li teneva sempre lei e nel mio borsellino il cui contenuto lei controllava puntualmente ogni giorno non c'erano mai più di 100 franchi anzi quasi sempre meno beh e che te ne fai dei soldi mi chiedeva con l'aspetto più innocente io non stavo a discutere in compenso lei con questi soldi si è messa su un appartamento più che discreto e quando poi mi ha condotto a vedere la sua nuova casa mostrandomi le stanze mi ha detto vedi cosa si può fare con un po di calcolo e con molto gusto anche quando si dispone di mezzi estremamente modesti e intanto quella miseria le era costata esattamente 50.000 franchi con gli altri 50.000 si è comprata carrozza e cavalli e per giunta abbiamo dato anche due balli o meglio due seratine a cui sono intervenute anche hortense lisette e cleopatra donne notevoli sotto molti aspetti e per giunta tutt'altro che sciocche a queste due seratine io sono dovuto intervenire e svolgere la parte perfettamente idiota del padrone di casa e cioè ricevere e occuparmi di ottusi mercantucoli arricchiti assolutamente insopportabili per la loro ignoranza e impudenza di vari tenentini di miserabili scribachini e nullità giornalistiche che si presentavano in fracca la moda guanti color paglia e con una tale dose di spocchie e di sussiego che sarebbero inconcepibili perfino da noi a pietroburgo e non è certo dire poco questa gente si è provata perfino a ridere alle mie spalle ma io mi ubriacavo di champagne me ne andavo a corricarmi nella stanza di dietro tutto ciò era per me abominevole al massimo grado se un uccitel diceva di me blanche il ha gagné 200 mil franc e senza di me non saprebbe come spenderli poi ritornerà a fare il precettore non c'è nessuno che abbia un posto per lui bisogna fare qualcosa per lui ho cominciato allora a ricorrere frequentemente allo champagne perché ero continuamente oppresso dalla tristezza e da una noia indicibile vivevo infatti nell'ambiente più borghese e mercantile che si possa immaginare dove si misurava e calcolava ogni su durante le prime due settimane blanche aveva per me una vera avversione cosa di cui mi accorgevo benissimo è vero che mi vestiva elegantemente e mi faceva ogni giorno il nodo alla cravatta ma in fondo all'anima mi disprezzava cordialmente cosa a cui io non badavo minimamente annoiato e avvilito avevo preso l'abitudine di recarmi al chateau des fleurs dove ogni sera regolarmente mi ubriacavo imparavo a ballare il can can che là si balla in modo particolarmente schifoso tanto che alla fine avevo acquistato addirittura una certa rinomanza in quell'arte ma alla fine blanche mi ha capito evidentemente lei fin da prima si era fatta l'idea che per tutto il tempo della nostra vita in comune non avrei fatto altro che starle dietro con carta e matita in mano calcolando quanto lei aveva speso quanto aveva rubato e quanto avrebbe speso e rubato in futuro e naturalmente era anche convinta che per ogni dieci franchi ci sarebbe stato inevitabilmente uno scontro tra noi a ogni mio presupposto attacco lei si era preventivamente preparata una mossa di risposta ma vedendo che io non attaccavo mai qualche volta all'inizio prendeva lei stessa l'iniziativa di ribattere certe volte cominciava con molto fuoco ma vedendo che io me ne stavo zitto per lo più sdraiato sul divano e con lo sguardo fisso al soffitto finiva per restarne meravigliata lei stessa da prima pensava che fossi semplicemente stupido an ucitel e troncava di netto le sue spiegazioni pensando probabilmente dentro di sé è chiaro che è un cretino è inutile darsi da fare con lui se non capisce da sé capitava certe volte che se ne andasse per tornare dopo dieci minuti questo capitava soprattutto in occasione delle sue spese più folli assolutamente sproporzionate per i nostri mezzi per esempio aveva cambiato i cavalli comprandone una pariglia da 16.000 franchi ma come bibi non ti arrabbi mi chiedeva accostandomisi oh mi hai scioccato rispondevo io respingendola con la mano ma ciò per lei era così curioso che subito mi si sedeva accanto vedi se mi sono decisa a spendere tanto è perché si trattava di una vera occasione potremmo benissimo rivenderli per 20.000 franchi ma ci credo ci credo sono degli splendidi cavalli e così tu hai un magnifico equipaggio che ti farà comodo e ora basta e così non ti arrabbi è perché dovrei arrabbiarmi tu fai molto bene a provvederti di certe cose che ti sono indispensabili tutto questo in seguito ti tornerà utile io lo vedo che per te è effettivamente indispensabile metterti su un certo piano altrimenti non riuscirai mai a metterti da parte un milione questi nostri centomila franchi sono soltanto l'inizio una goccia nel mare e blanche che meno di ogni altra cosa si aspettava da me certe considerazioni invece dei presupposti rimproveri e proteste cadeva letteralmente dalle nuvole e così tu ma guarda un po che tipo sei me tu ha dell'esprit pour comprendre se tu mon garçon anche se non sei altro che un precettore avresti dovuto nascere principe e così non ti dispiace che i soldi se ne vadano così in fretta ma che me ne importa se ne fossero andati già tutti me se tu me di donque non sarai mica ricco per caso me se tu mi pare che tu disprezzi troppo il denaro quesque tu ferà pre di donque dopo andrò a omburg e vincerò altri centomila franchi oui oui se sa se magnifique e io so che tu senza dubbio li vincerai e me li porterai di donque lo sai che tu farai tanto che alla fine ti amerò davvero visto che sei così io per tutto questo tempo ti amerò e non ti sarò mai infedele vedi in questi giorni sebbene non ti amassi parce que je croyé che tu n'è cananucitel quelques shoes come un loque n'espa tuttavia ti sono stata sempre fedele parce que je suis bon fille non dire bugie credi che non ti abbia visto la volta scorsa con albert quell'ufficialetto bruno oh me tu è su su non dire bugie credi forse che io mi arrabbi ma io ci sputo sopra il fo che jeunesse se passe non puoi mica metterlo alla porta se lui c'era prima di me e tu lo ami soltanto non gli dare del denaro capito e così tu non ti arrabbi neanche per questo ma tu è un vrai filosofo sei tu un vrai filosofo ha esclamato blanche in preda all'entusiasmo ebien je t'amoré je t'amoré tu verrà tu serà content ed effettivamente da quel momento blanche mi si è davvero affezionata quasi come un'amica e così sono trascorsi gli ultimi dieci giorni non ho visto le stelle che mi aveva promesso ma sotto certi aspetti devo dire che lei ha tenuto fede alla sua parola per giunta blanche mi ha fatto fare la conoscenza di hortense che nel suo genere era una donna notevolissima e che nel nostro circolo era soprannominata therese filosof del resto non è il caso che mi diffonda troppo su questo tutta questa storia potrebbe costituire un racconto a parte con un carattere suo proprio che non intendo inserire in questo racconto il fatto è che io desideravo con tutte le mie forze che questa faccenda si concludesse quanto prima ma i nostri 100.000 franchi sono bastati come ho già detto per quasi un mese cosa che mi ha sinceramente stupito infatti blanche aveva speso in acquisti almeno 80.000 di quei 100.000 franchi e così in quei giorni abbiamo sperperato non più di 20.000 franchi che pure sono bastati blanche che verso la fine di quel periodo era ormai quasi franca con me o almeno in qualcosa non mi mentiva mi ha detto a un certo momento che non mi sarebbero ricaduti addosso i debiti che pure lei era stata costretta a contrarre io non ti ho fatto firmare né conti né cambiali mi ha detto perché ho avuto pena di te un'altra al mio posto l'avrebbe fatto senz'altro e ti avrebbe fatto cacciare in carcere lo vedi lo vedi quanto ti ho voluto bene come sono buona con te che cosa non mi costeranno solo queste nozze del diavolo effettivamente in casa nostra si celebravano delle nozze la cerimonia è stata celebrata proprio alla fine del nostro mese e devo premettere che proprio in quell'occasione se ne sono andati gli ultimi resti dei miei 100.000 franchi appunto con quelle nozze si è conclusa la faccenda si è concluso cioè il nostro mese di convivenza e io mi sono messo formalmente in congedo le cose sono andate così una settimana dopo che ci eravamo installati a parigi è arrivato il generale è venuto direttamente da blanche e fin dalla sua prima visita è rimasto quasi sempre da noi è vero tuttavia che aveva un appartamentino da qualche parte blanche l'ha accolto con gioia con risate i gridolini e si è perfino precipitata ad abbracciarlo è andata a finire che lei stessa non l'ha più lasciato andar via e lui doveva seguirla dovunque le andasse sul boulevard alle passeggiate in carrozza in teatro in visita il generale era molto adatto per questi compiti aveva un aspetto abbastanza distinto e rispettabile di statura quasi alta con i basettoni tinti e i baffoni un tempo aveva servito nei corazzieri il volto ancora interessante anche se un po' floscio le sue maniere erano eccellenti e portava il frac con molta eleganza a parigi aveva cominciato a portare le sue decorazioni passeggiare con un tipo simile sul boulevard era non soltanto possibile ma se così posso esprimermi perfino raccomandabile quel buon diavolo un po' rincitrullito del generale era estremamente contento di tutto ciò non contava certo su una tale accoglienza presentandosi a casa nostra al suo arrivo a parigi quella volta si era presentato alla nostra porta quasi tremando di paura pensava che blanche si sarebbe messa a gridare e l'avrebbe fatto cacciare vedendo il verso che avevano preso le cose egli non stava più in sé dalla gioia e tutto quel mese l'ha trascorso in una spensierata ed euforica disposizione di spirito e in tale disposizione io l'ho lasciato soltanto più tardi sono venuto a sapere dettagliatamente che dopo la nostra improvvisa partenza da roulettenburg il generale era stato colto da una specie di attacco improvvisamente era svenuto e poi per tutta una settimana era come pazzo e non faceva che parlare a sproposito lo curavano ma un tratto lui aveva piantato tutto si era messo in treno ed era arrivato a parigi naturalmente l'accoglienza fattagli da blanche era stata per lui la migliore medicina tuttavia certi sintomi della malattia si sono mantenuti per un pezzo nonostante la sua gioiosa ed euforica disposizione di spirito non era assolutamente in grado di ragionare e neppure di condurre una conversazione appena un po' serie quando si trovava in casi del genere egli non faceva altro che aggiungere un a ogni parola che diceva e scuoteva il capo in questo modo si cavava ad impiccio rideva spesso ma di un sorriso nervoso quasi morboso che non riusciva a frenare certe volte era capace di restarsene seduto per ore intere cupo come la notte aggrottando le sue folte sopracciglia di molte cose egli non si ricordava neppure era diventato incredibilmente distratto e aveva preso l'abitudine di parlare da solo blanche era l'unica che riuscisse a rianimarlo e quegli stessi attacchi di umore cupo e triste quando andava a cacciarsi in silenzio in un angolo stavano solo a indicare che da un pezzo non aveva visto blanche oppure che lei se n'era andata senza prenderlo con sé o che soltanto non gli aveva fatto qualche moina al momento di lasciarlo in quei momenti lui stesso non sarebbe stato capace di dire cosa voleva e certo non sapeva neppure di essere triste e cupo dopo essersene stato seduto un'ora o due l'ho notato un paio di volte che blanche se n'era andata per tutto il giorno probabilmente da albert tutto a un tratto il generale cominciava a guardarsi intorno a inquietarsi a voltarsi di qua e di là come se si fosse ricordato di qualcosa o cercasse qualcuno ma poi non vedendo nessuno e non ricordandosi che cosa voleva chiedere cadeva di nuovo nel torpore di prima finché a un tratto arrivava blanche allegra vivace elegantissima con la sua sonora risata lei correva subito verso di lui cominciava a fargli delle moine e perfino a baciarlo onore quest'ultimo di cui del resto di rado lei lo gratificava una volta il generale si è talmente rallegrato del suo ritorno che si è messo perfino a piangere tanto che me ne sono rimasto stupito io stesso fin dalla prima apparizione del generale in casa nostra blanche aveva preso le sue difese facendo perfino sfoggio d'eloquenza mi ricordava che aveva tradito il generale per amor mio quando era già quasi la sua fidanzata e gli aveva dato la sua parola che lui aveva abbandonato la famiglia per amor suo e che in fin dei conti io stesso avevo servito in casa sua e dovevo pure ricordarmene e come non mi vergognavo io restavo sempre in silenzio e lei continuava a cicalare senza smetterla più alla fine sono scoppiato a ridere e la cosa è finita così è finita cioè che da prima lei pensava che fossi uno sciocco e poi invece è arrivata alla conclusione che era un uomo molto buono e ragionevole insomma alla fine della nostra convivenza ho avuto la fortuna di guadagnarmi la piena benevolenza di quella degna fanciulla blanche del resto era effettivamente un'ottima ragazza nel suo genere naturalmente e all'inizio io non l'avevo giudicata al suo giusto valore tu sei un uomo buono e intelligente mi diceva spesso negli ultimi tempi peccato soltanto che tu sia così stupido non metterai mai nulla da parte un vrai russo anche al muc mi mandava spesso a portare a passeggio il generale proprio come mandava il lacquer a portare a spasso la sua cagna un levriere del resto ero io a portarlo a teatro al balmabil e al ristorante per questo blanche mi dava perfino i soldi sebbene anche il generale ne avesse e fosse sempre molto soddisfatto quando poteva tirar fuori il portafoglio davanti alla gente una volta ho dovuto quasi ricorrere alla forza per impedirgli di comprare una broche da 700 franchi che aveva ammirato al palais royal e che voleva a tutti i costi regalare a blanche ma che se ne faceva blanche di una broche da 700 franchi il generale aveva in tutto non più di mille franchi ma non ho mai potuto sapere di dove li avesse presi suppongo che provenissero da mister astley tanto più che era stato proprio lui a pagargli il conto dell'albergo per quanto riguarda poi il modo in cui egli mi considerava per tutto quel tempo ho avuto l'impressione che egli non indovinasse neppure quali erano i miei rapporti con blanche sebbene avesse confusamente sentito dire che io avevo vinto un capitale tuttavia egli senza dubbio supponeva che io mi trovassi presso blanche con le funzioni di segretario privato o perfino di servo perlomeno lui parlava sempre con me in tono altezzoso da superiore e qualche volta si è messo perfino a farmi una ramanzina un giorno al mattino mentre prendevamo il caffè in casa il generale ha fatto enormemente divertire me e blanche non era affatto una persona suscettibile eppure tutta un tratto se l'è presa con me e perché poi ancora oggi non l'ho capito ma naturalmente non lo sapeva neppure lui insomma ha cominciato un discorso che non aveva né capo né coda a baton rompì gridando che io era un ragazzino che mi avrebbe insegnato lui che me l'avrebbe fatto capire lui e così via ma nessuno ci capiva niente blanche rideva da spaccarsi in due finalmente il generale è stato fatto calmare e portato a passeggio molte volte d'altronde mi è capitato di notare che egli diventava improvvisamente triste come se si affliggesse per qualcuno o per qualche cosa o sentisse la mancanza di qualcuno e questo nonostante perfino la presenza di blanche in momenti di questo genere un paio di volte ha attaccato lui stesso discorso con me ma senza mai riuscire a esprimersi chiaramente ricordando gli anni di servizio la moglie defunta la casa la proprietà capitava che gli venisse in mente una parola qualsiasi e che se ne rallegrasse tutto ripetendola magari cento volte al giorno sebbene quella parola non esprimesse affatto i suoi sentimenti né i suoi pensieri ho provato qualche volta a portare il discorso sui suoi figli ma egli schivava l'argomento con la sua solita parlantina e passava subito a un altro argomento sì sì i figli i figli lei ha ragione i figli soltanto una volta si è commosso un giorno che andavamo insieme a teatro questi disgraziati bambini si è messo a dire a un tratto eh sì signor mio questi figli disgraziati e in seguito più volte quella stessa sera ha ripetuto le parole disgraziati bambini quando una volta ho portato il discorso su polina lui è andato addirittura su tutte le furie è un ingrata ha esclamato una donna cattiva e ingrata ha disonorato la famiglia se almeno qui ci fossero delle leggi l'avrei piegata come un giunco sì 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 per quanto poi riguarda de griot non poteva nemmeno sentir pronunciare il suo nome lui mi ha rovinato diceva mi ha derubato e mi ha piantato un coltello nella schiena è stato il mio incubo per due anni interi ho sognato di lui per mesi interi è stato è stato non parlatemi mai più di quell'uomo vedevo che le cose si mettevano bene tra lui e blanche ma me ne stavo zitto secondo il mio solito è stata blanche a parlarmene per prima esattamente una settimana prima della nostra separazione il là della chance ha cominciato a cicalare la nonna adesso è veramente malata e non c'è dubbio che morirà mister astley gli ha mandato un telegramma comunque egli è pur sempre il suo erede e anche se non lo fosse che fastidio mi darebbe in primo luogo lui ha la sua pensione e in secondo luogo abiterà in una stanza laterale e sarà perfettamente felice sarò madame la generale farò il mio ingresso nell'alta società questo era sempre stato il suo sogno e in seguito diventerò anche una proprietaria russa j'aurai un chateau des mugix e poi j'aurai toujours mon million beh e se cominciassi a fare il geloso a pretendere chissà che mi capisci o no 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 non oserebbe mai e poi ho preso le mie misure non preoccuparti l'ho già costretto a firmare delle cambiali intestate ad albert se appena ci prova verrà subito punito ma comunque non oserà beh e allora sposati le nozze sono state celebrate senza particolare solennità in un'atmosfera tranquilla e familiare erano invitati soltanto albert e qualcuno degli amici più intimi hortense cleopatra e gli altri del gruppo erano stati inesorabilmente esclusi il fidanzato era tutto preso dalla sua parte è stata blanche stessa ad anodargli la cravatta e impumatargli i capelli e bisogna dire che in fracche panciotto bianco il generale aveva un'aria très comme il faut il est pourtant très comme il faut mi ha dichiarato la stessa blanche uscendo dalla sua stanza come se l'idea che il generale era très comme il faut avesse colpito perfino lei io ero uno spettatore così pigro prendevo talmente poca parte a tutto ciò e mi occupavo talmente poco dei dettagli che ho dimenticato quasi del tutto come sono andate le cose ricordo soltanto che è venuto fuori che blanche non si chiamava affatto de cominge proprio come sua madre non si chiamava affatto vove cominge bensì du placé perché mai si fossero chiamate de cominge fino ad allora non ne ho la minima idea ma il generale è rimasto molto contento della novità e il nome du placé gli è piaciuto ancora di più che de cominge il mattino delle nozze vestito di tutto punto non faceva che camminare avanti e indietro per la sala ripetendo continuamente fra sé con aria assolutamente seria e compresa mademoiselle blanche du placé blanche du placé du placé signorina bianca du placé e il viso gli splendeva di soddisfazione in chiesa davanti al sindaco in casa durante il rinfresco il generale aveva un'aria non soltanto allegra e felice ma perfino orgogliosa qualcosa doveva essere avvenuto in tutte e due infatti anche blanche aveva assunto un aspetto insolitamente dignitoso ora dovrò tenere un contegno completamente diverso mi ha detto con aria estremamente seria me vuoti non avevo ancora pensato a una cosa seccantissima immaginati che finora non sono riuscito a imparare il mio attuale cognome zagoriansky zagoziansky madame la generale de zagu zagu c'è diable de nom russe enfin madame la generale a catorze consonnes com c'è agréable n'espa finalmente è venuto il momento della separazione e blanche quella sciocca blanche ha versato perfino qualche lacrima salutandomi tu etes bon enfant mi ha detto piagnucolando je te croyais bête et tu en avez l'air ma è una cosa che ti sta bene e al momento di stringermi la mano per l'ultima volta ha gridato a un tratto attends si è precipitata nel vudoire e ne è uscita un minuto dopo portandomi due banconote da mille franchi una cosa del genere non l'avrei mai creduta possibile questi ti faranno comodo tu forse sarai pure un uccitel molto istruito ma come uomo sei proprio sciocco più di duemila franchi non te li do in nessun caso perché tanto tu li perderesti lo stesso beh addio nous serons toujours bons amis e se vincerai di nuovo vieni senza fallo a trovarmi e tu seras ero del resto io avevo ancora 500 franchi per giunta possedevo un magnifico orologio da mille franchi dei gemelli da polso di brillanti e altri oggetti così che sarei potuto andare avanti ancora per un pezzo senza preoccuparmi di niente mi sono fermato di proposito in questa cittadina per riprendermi e soprattutto per aspettare mister astley ho saputo con certezza che lui passerà di qui e si fermerà per 24 ore per una certa faccenda verrò così a sapere tutto e poi poi me ne andrò direttamente a omburg a roulettenburg non ci andrò per ora magari l'anno venturo si dice infatti che sia di cattivo auspicio tentare due volte di fila la fortuna allo stesso tavolo da gioco e poi a omburg dicono